Leggero, facciamolo di secco, leggero, leggero, leggero. Oggi è martedì, ripresa degli allenamenti. Ci troviamo nei gradoni del Nuovo, di via Olimpia, sono i nostri allievi. Spingiamo, spingiamo. Andiamo su, sciolti, cambio, via. Sciolti, andiamo su, sulla sbarra, andiamo. Arrivici io. Sì, come, non ce la fai io. Andiamo di qua, sulla punta. Perché? La punta. Ecco, mentre i nostri allievi effettuano gli eserciti ginnici con Mr. Gabriele, qua, sui gradoni della tribuna, fanno il loro ingresso in campo, gli esordienti di Mr. Giuseppe e Gian Cristoforo. No, questi sono i, non so se sono i pulcini o gli esordienti. C'è Mr. Giulio Massimini e Giordano Simone. Ok, sciolti, andiamo su, prendiamo la gamba, prendiamo la gamba, restiamo fermi. Mettiamoci... Aria frizzante. Prendiamoci alla sbarra. In questo martedì. Con il corso dritto, se ci riusciamo...